Siamo qui oggi con Carlo Riccio che ha ricevuto un'importantissima delega fuorigiunta dal Comune di Torre del Greco. Si tratta dello sviluppo delle attività economiche e commerciali e loro internazionalizzazione sul comune, sul territorio di Torre del Greco. Una delega importante è soprattutto il clima in cui viviamo, un clima dove l'economia sembra ferma e ha bisogno assoluto di un qualcosa che la rilanci anche nel mondo. Qual è la situazione attuale di Torre del Greco? Questo è un incarico che finalmente a Torre del Greco riusciamo a delineare le forze produttive ma con una sorta di censimento. È sempre mancato quella connessione fra impresa e amministrazione dove poi giustamente le imprese hanno avuto difficoltà nel tempo poi anche di espandersi quindi diciamo c'era la volontà da parte dell'impresa di espandersi però mancava proprio quello che dicevo poco anzi questo connubio fra entrambi le posizioni. Con questo incarico io sto facendo un monitoraggio di tutto il nostro territorio dove poi verrà effettuato un lavoro di selettivo di tutte le associazioni quindi io mi sto adoperando con tutte le aziende diciamo i brand più importanti che rappresentano un poco Torre del Greco affinché da questi brand noi riusciamo poi a incanalare tutti i settori commerciali. La progettazione è molto ampia ci baseremo poi in qualcosa di grosso perché Torre verrà inglobata in un grande brand questo è poi un brand che io poi a tempo quanto prima darò il nome di questo grande brand che andrà a identificare tutta la posizione tecnica di Torre del Greco perché la mia progettazione è una progettazione socio economica tecnica commerciale. Quindi le maestranze sono tante le potenzialità sono tante ma manca o è mancato finora un connubio con l'amministrazione che possa valorizzarle. Ora c'è terreno fertile per questo questo connubio per questa unione? Stiamo identificando tutti i settori quindi io quando ascolto questi brand che poi saranno loro ad attirare vicino a loro tutte le loro tutto quello che è il terziario tutto quella che è la filiera commerciale del diciamo del loro settore noi così identifichiamo finalmente i settori. Sono in programma tavoli tecnici tavoli d'incontro fra le varie realtà locali e l'amministrazione? Io mi auguro in brevissimo tempo di iniziare questi tavoli tecnici fra virgolette un po' anche più ampi oggi l'amministrazione la politica la vera politica sana ma tecnica ha la compito principale di ascoltare ma risolvere. Chiudiamo con una nota ottimistica come può diventare Torre del Greco fra qualche anno? Cosa può essere a livello internazionale? Allora Torre del Greco su questo tipo di questa progettazione che io ho fatto e sto portando avanti conto di che il pil di Torre del Greco potrà iniziare ad avere almeno un punto in più un punto in più e parliamo di tanto perché un punto significa rimettere in modo piano piano su questa progettazione tutto quello che lo sviluppo finalmente che Torre del Greco aveva non ha avuto ma oggi inizierà ad avere questa cosa fondamentale quindi io credo molto molto in questo programma tecnico e finalmente iniziamo. Io poi amo molto il mio territorio sono nato ho famiglia vivo e poi vedere che le potenzialità di un territorio così fra virgolette arido per tante problematiche oggi quest'arido dovrà essere come si dice un campo in fiori. Grazie a tutti.